Estorsioni a danno di imprenditori professionisti, alcuni dei quali italiani, eseguite in Croazia ma pianificate in Italia, il tutto nel ruolo di picchiatore, forte del fisico corpulento al fine di intimidire le vittime disegnate dal gruppo criminale di cui si vantava di appartenere, munito anche di delega a passare alle vie di fatto, se necessario. Ovidiu Bali, 44enne rumeno con un passato da pugile professionista, che lo ha visto anche sul ring in occasione delle Olimpiadi di Atlanta del 1996, pregiudicato e recentemente occupato come buttafuori, è stato raggiunto da una misura di custodia cautelare in carcere eseguita a Roma dalla Direzione Investigativa Antimafia di Trieste e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste e della Guardia di Finanza. La carcerazione di Bali segue quelle disposte a dicembre dell'anno scorso nell'ambito della medesima indagine, che ha portato altre sette persone alla detenzione. Controllato più volte con personaggi apicali della famiglia Spada di Ostia, Bali è stato identificato dagli investigatori, che hanno poi mostrato le sue foto in visione alle vittime, venendo riconosciuto da ben sei persone. Il boxer ha avuto l'incarico di convincere, se così possiamo dire, di fatto anche con il ricorso alla violenza, le vittime a rinunciare agli ingenti crediti da essi vantati nei confronti di Fabio Gaiatto, il trader accusato di aver organizzato la truffa milionaria della Venice Investment Group, inducendole anche a cedere a quest'ultimo beni immobili e immobili senza alcun corrispettivo, nonché a fare coincistenti prestiti che poi avrebbero dovuto confluire sul conto di società del faccendiere di Portogruaro. Il metodo mafioso messo in atto era diretto a favorire gli interessi del clan camorristico dei Casalesi, come accertato dagli investigatori coordinati dal procuratore della Repubblica di Trieste Carlo Mastelloni e dal sostituto procuratore Massimo De Bortoli. Scandagliando gli ambienti della criminalità organizzata di stampo camorristico, era emerso che Gaiatto, attualmente in carcere, vestiti i panni abusivi di intermediario finanziario, aveva investito quasi 12 milioni di euro appartenenti però a gruppi criminali contigui e casalesi, con la complicità e lo strumentale utilizzo di diverse società, con sede in Croazia, Slovenia e Gran Bretagna.